benvenute e benvenuti sul canale sono green vanship oggi proseguiamo con la serie di little alchemy vi ricordo che in questo video game di logica naturalmente e lo scopo è combinare vari elementi per trovarne di nuovi ormai siamo arrivati a che episodio di questa serie l'ottavo il nonno episodio il nonno dovrebbe essere nonno episodio si dovrebbe essere il nonno episodio vedete abbiamo già trovato 200 elementi su 800 anzi 201 perché unendo l'armatura con l'animale selvatico abbiamo trovato l'armadillo che ve ne pare questa sostanzialmente è la meccanica del gioco quindi il nostro compito è essere particolarmente svegli e trovare le combinazioni giuste vedete ho appena trovato l'avvoltoio che va benissimo va benissimo ne abbiamo già trovati due facciamo un attimino di pulizia sulla tela ok e cerchiamo altre combinazioni non è facile perché all'inizio basta fare abbiamo trovato l'antartide abbiamo trovato l'antartide cioè all'inizio era anche facile che poteva potevano venire fuori qualche animale poteva venire fuori qualche animale che vive da quelle parti immaginavo invece a quanto pare no peccato vabbè comunque vi dicevo all'inizio del gioco era facile perché bastava fare qualche combinazione ecco tipo così adesso abbiamo trovato l'iceberg perfetto all'inizio del gioco era più o meno così perché avevamo pochissimi elementi bastava combinarli un pochino a caso e quindi noi riuscivamo a trovare qualcosa di nuovo ogni volta o quasi ogni volta invece adesso il gioco si è un pochino complicato perché avendo tantissimi elementi io faccio anche fatica a tenermeli a mente tutti quindi figuriamoci se dopo riesco a fare qualche nuova combinazione ecco invece vi ricordo che quando il nome dell'elemento è sottolineato vuol dire che quell'elemento non può essere utilizzato per formarne di nuovi cioè è arrivato alla sua forma definitiva non può essere usato in nessun altro modo e dobbiamo utilizzare gli elementi che hanno il nome non sottolineato tipo la luna abbiamo trovato l'astronauta avete visto unendo luna e umano abbiamo trovato l'astronauta ok niente niente quindi l'astronauta non poteva combinarsi con quelli e l'iceberg si potrebbe unire con qualcosa anche l'astronauta volendo potremmo anche provare a tenerli lì e vedere cosa succede fra un pochino magari allora vediamo la legna con lo stregone la bacchetta magica giusto la bacchetta con lo stregone ha generato la bacchetta magica molto bene ok direi che può andare siamo 206 elementi e però non saprei ragazzi allora cosa potremmo unire adesso allora la legna con l'acqua la barca ok ok quindi cosa potrei fare l'ho detto che non è facile perché uno deve anche deve anche pensarci vero barca a vela ok e più barche formano una flotta no un galeone niente abbiamo trovato però la barca a vela e teniamo qui anche la barca normale vediamo se riusciamo a fare niente sapete che c'erano i battelli con i battelli a ruota una volta nei fiumi e mi chiedevo se magari con la ruota poteva uscire uno di quelli ma a quanto pare no ma abbiamo trovato una stella il cielo con la notte ha generato la stella perfetto ok va benissimo e addirittura più stelle abbiamo trovato una galassia e la costellazione vedete entrambe hanno il nome sottolineato quindi non possiamo utilizzarle per creare altri elementi però due elementi in uno va sempre bene la stella con la pressione abbiamo trovato il buco nero in effetti ok allora andiamo avanti sempre con la stella supernova quando esplode una stella crea una supernova molto bene oggi il tema è lo spazio spazio ultima frontiera lo chiamiamo così l'episodio di oggi allora abbiamo sempre un uovo abbiamo sempre la sabbia e con la sabbia si fa una tartaruga perfetto vi ricordo che la frittata l'abbiamo già trovata allora abbiamo anche il formaggio ok trappola per topi giusto trappola per topi la mettiamo via perché non possiamo combinarla con altro e poi e poi e poi poi strumento barca a vela iceberg motore a vapore aspetta ok battello a vapore alla fine l'abbiamo trovato non era come quello che immaginavo io ma diciamo è quello la terra con la nuvola crea la nebbia giusto io pensavo alle nuvole basse a dirvi la verità però la nebbia va benissimo mi va bene anche la nebbia e poi con il lago cosa ci posso fare vediamo abbiamo trovato un elemento nascosto nessi perché abbiamo unito la storia con il lago e qui che poi è venuta fuori nessi che poi è una fake news colossale magari andatevi a cercare la vera storia dietro il mostro di lochness però e diciamo abbiamo crea abbiamo trovato nessi che era un elemento nascosto perfetto sono stati bravissimi siamo stati caspita siamo stati veramente bravi o fortunati dipende allora il sole lo teniamo lì la stella ecco lo spazio vedete il sole con la stella ha generato lo spazio va benissimo è bellissimo è una granata che l'esplosione con il metallo ha creato una granata non era voluta questa cosa però adesso sappiamo che uno degli elementi è la granata benissimo ha il cammino bene quindi il fuoco praticamente con il cos'è un fallo un mattone ha creato il cammino va bene pensavo di poter combinare lo spazio per creare il multiverso sarebbe stata fortissima questa cosa però purtroppo è un abbinamento che non è che non è stato previsto però ci stava bene ci stava lo consiglio agli sviluppatori lo consiglio agli sviluppatori perché ci stava molto bene ok abbiamo trovato la casetta per il cane io non l'avrei chiamato canile l'avrei chiamato casetta del cane cuccia del cane però va bene insomma vedete dopo alcuni elementi sono capanna di legno per esempio alcuni elementi sarebbero di per sé facili da trovare da combinarci ti viene in mente che potrebbe essere qualcosa però non è facile perché non sempre hai tutti quanti gli elementi sotto gli occhi comunque ragazzi dai direi che per oggi abbiamo fatto abbastanza per oggi ci fermiamo qui vi ringrazio per avermi seguito spero che il video vi sia piaciuto spero che vi stia piacendo la serie iscrivetevi al canale mettetemi un bel mi piace commentate condividete per non perdere nessuna novità cliccate sulla campanellina degli avvisi mi raccomando andate a fare un giretto sui social link in basso in descrizione ciao a tutti ciao